Questo rialzo è un fake, in moltissimi si stanno facendo questa domanda proprio in questi giorni. Rialzo di Bitcoin di questi giorni è un fake, è una trappola per Tori ragazzi. Sì, no, vero, non vero, io intanto faccio una cosa, cioè lancio il Bitcoin. L'ho preso al volo ancora una volta ragazzi, non vi dico cosa è uscito, ma porta bene. Bene, ciao a tutti, bentornati in questo nuovo video, iniziamo un nuovo video ragazzi con il breakout avvenuto in settimana di quello che era il grafico che vi avevo fatto vedere, quello sulla media a 26 settimane, un grafico molto rilevante che abbiamo visto nel famoso video di venerdì. A proposito ragazzi, chi di voi non avesse visto quel video, scappi a vederlo perché è un video diciamo stra-importante ragazzi, anche se è stato travisualizzato, ve lo ricordo, comunque la media a 26 periodi è stata breccata, è un break vero, sì o no? Ci sono tante cose da dire nel video di oggi ragazzi, vi faccio vedere anche la questione dell'altro grafico che abbiamo visto proprio nel video di venerdì dove vi avevo posizionato la successiva resistenza al breakout di questa, vi avevo detto il mercato se ne andrà a tirare sulla successiva, è arrivato proprio lì, ci è arrivato anche in tempi estremamente rapidi, devo essere sincero e si è fermato chiaramente sulla successiva resistenza. Vi do subito una brevissima chicca prima di iniziare tutta la storia di questo video ragazzi e vi dico che questa è la successiva resistenza strarilevante, 25 e molto molto altra e da lì cambia proprio tutto, tutto, tutto quanto. Ma prima di andare avanti per cercare di rispondere alla domanda ragazzi di questo video, cioè questo rialzo ha le gambe corte, è una trappola per Tori, sì o no? Di nuovo c'è una questione molto molto importante da andare a ragionare e di nuovo andremo a guardare una serie di grafici. Oggi ho preparato per voi dei grafici molto più analitici sulla parte del breve periodo perché dobbiamo fare un po' anche l'avvocato del diavolo, quindi difendere anche il concetto che molti analisti stanno pensando, cioè che i mercati non possono continuare questo trend perché ragazzi Bitcoin dall'inizio dell'anno ha guadagnato il 26% ed è andato solo su. Allora questo è una cosa che era tra l'altro un po' anche un eccesso, vi faccio vedere per esempio quello che era il grafico a candele annuali, cioè praticamente ha aperto ed è andato solo e unicamente su. In tutto queste settimane di inizio, in pratica gennaio, non ha mai fatto delle candele rosse, cioè praticamente la prima candela rossa l'ha stampata, vabbè qui c'erano queste micro candele rosse qui e poi ieri e oggi sto facendo questa candela che tra l'altro è terrificante da un punto di vista di pattern, per chi ama i pattern delle candele è una candela brutta. Vi faccio vedere un grafico ragazzi dove questa candela si vede anche molto peggio, ci arriviamo tra poco ed è un punto di questo video molto chiaro che vi farò vedere. Ma in pratica tutta questa fase di alzista è un ascensore classico delle crypto, ha recuperato l'intera struttura di crash avvenuto nelle giornate 6, 7, 8 e 9 di novembre dal crash di FTX, il mercato si è riportato di nuovo in linea. Moltissimi potrebbero dire che le news sono sempre inutili, i mercati fanno sempre una cosa e continuano su quella strada. In effetti ancora una volta, nonostante sia già avvenuto per esempio questa cosa durante la pandemia, ancora una volta Bitcoin ha dimostrato di nuovo questa cosa. Non è casuale però ovviamente sottostare a tutta questa volatilità, ragazzi ahimè, non è un po' per tutti, non è per somaci forti. Ma facciamo un'altra cosa. Ragazzi scusate, allora iniziamo anche a guardare un po' quelle che possono essere le news che in questa settimana potrebbero impattare sui mercati. In particolar modo volevo anche farvi vedere che questa fase di alzista un po' accentuata nel settore delle crypto non è poi così tanto strana perché dal punto di vista macro in realtà l'analisi fondamentale macroeconomica, quindi quella delle politiche monetarie che ha un'influenza abnorme sui mercati delle crypto in questa fase, ha cambiato un connotato cioè un dato totalmente diverso e questo dato totalmente diverso va un po' a giustificare forse non la velocità di questo rialzo ma il fatto stesso che comunque Bitcoin e anche le altre crypto abbiano rimbalzato ed era un po' quello che ci aspettavamo da dicembre in pratica che ne stiamo parlando di questo fantomatico rally di Natale sfumato che poi si è verificato a inizio gennaio in maniera molto anomala. Allora intanto vediamo quelle che sono le news che in questa settimana potrebbero impattare sui mercati e far fare il famoso cambio trend a Bitcoin stesso che molti analisti stanno ponendo come un grave, gravissimo problema cioè il fatto che questo rialzo sia il rialzo dei polli, cioè in pratica una trappola per Torino. Poi dobbiamo cercare di risolvere questo problema, di andare a rispondere in maniera oggettiva come sempre facciamo con l'analisi delle probabilità a questo problema. Allora intanto vediamo che nella giornata di mercoledì, intanto oggi ragazzi è festa negli Stati Uniti quindi giorno di Martin Luther King e quindi comunque una giornata a teoricamente bassa volatilità. Poi domani non ci sarà praticamente niente di rilevante quindi anche domani sarà una giornata più calma e pacata. Mercoledì iniziano una sfizza di dati che sono il tasso di inflazione dell'Europa, il mercato però ci ha insegnato che in sostanza non ha una grave cioè non ha una grande reazione a questi tipi di dati europei perché soprattutto il mercato delle cripte è un po' più internazionale. Poi vendita al dettaglio IPP che è un dato sull'inflazione importante ai prezzi alla produzione e va visto. Poi qui c'è un primo dato realmente alla questione legata alla recessione economica. Recessione economica che è il punto focale dei prossimi mesi come vi avevo detto al video inizio gennaio dovremmo stare fortemente attenti a questa cosa ragazzi. Allora la recessione economica è importantissima perché potrebbe influire negativamente su quelli che sono gli andamenti. Da dove la vediamo in questa settimana da alcuni dati qualcosina si inizierà a vedere. Intanto le vendite a dettaglio per vedere se iniziano a crollare in maniera più consistente delle attese. Ricordatevi sempre che ci deve essere una diminuzione, in questo caso la vendita è maggiore delle attese per fare un leggero shock di mercato. Poi abbiamo qui alcune cose interessanti, cioè le richieste di sussidi e disoccupazioni, i permessi a costruire e le scorte di petrolio. Sono dati non super rilevanti ma abbastanza rilevanti che potrebbero indicare un tasso di recessione economica che va un po' più ad accentuarsi. Gli ultimi dati non sono stati così gravi e anche la BCE stessa sta dicendo che non ha stime di recessione importante per il prossimo anno. Ci sarà però, non è una cosa grave e questo i mercati lo hanno preso in maniera estremamente, diciamo, positiva. E poi l'ultimo dato, il venerdì, quello sulla vendita delle abitazioni. Ci saranno anche i discorsi di Lagarde, ma anche in questo caso ragazzi probabilmente è tutto già scontato dai mercati. Quindi secondo me grandi impatti da notizie nella settimana attuale non ne avremo, anche perché abbiamo questo grafico che vi faccio vedere, che dà un'indicazione molto rilevante su quello che il mercato già si aspetta sulla questione dei tassi e sull'inflazione. 16 giorni al prossimo FONCA, al prossimo rialzo dei tassi di interesse, la percentuale degli investitori e degli stakeholder istituzionali quant'altro pensa che il 91% pensa che la Fed alzerà i tassi di interesse di 0,25 e non più di 0,50. Questo è un dato buono perché significa che stiamo andando verso una fase di stabilizzazione della politica monetaria, in maniera tale che la politica monetaria non sarà più fortemente restrittiva, ma inizierà ad essere leggermente restrittiva fino ad annullarsi, cioè a fermarsi, che non vuol dire ridurre i tassi ragazzi, vuol dire fermarsi e questo significa che i tagli alla liquidità vengono meno, ciò significa che la domanda, cioè le vendite degli asset vengono meno ragazzi, questo impatterà tutto il mercato, poi non vuol dire che da qua saliamo, di solito non è così, perché poi c'è un'altra fase, però questo è un dato molto buono che probabilmente ha influito in maniera molto pesante sul rialzo di questi giorni di gennaio appunto anche per le cripto. La vera problematica però che molti analisti s'hanno tirato su proprio in questa settimana è il perché anche dicono che questo rialzo è sostanzialmente poco sostenibile nell'anno 2023, è legato al fatto che la struttura del mercato resta ribassista ragazzi, cioè la struttura di lungo periodo di bitcoin resta al ribasso, questo è anche facilmente visibile nei grafici perché possiamo andare a vederlo in maniera molto oggettiva e nonostante che se allargiamo la finestra, questa è la finestra del rialzo che se lo guardiamo zoomata ci sembra wow, molto bello, ma se andiamo a restringere il campo vediamo che in sostanza la struttura di lungo periodo, perché questa è una struttura che ha invertito il trend anche di lungo periodo, poi ci sono tante considerazioni da questo punto di vista da fare, però diciamo che di medio-lungo periodo sicuramente l'ha invertita il ribasso, questa struttura non è stata ancora invertita, quindi in pratica molti stanno dicendo che questo rialzo fa parte di un rimbalzo di questa struttura ribassista, un po' come quello che avevamo avuto per esempio ad inizio del 2022, cioè questa fase di rimbalzo e non è strano bitcoin che faccia queste cose ragazzi, le ha fatte diverse volte, quindi questo è un swing al rialzo che fa parte secondo questi analisti della stessa struttura ribassista del trend di medio-lungo periodo che sta toccando bitcoin e che lo porterà probabilmente al target dei 12.000, questo è il pensiero di questi analisti. Allora come facciamo noi a comprendere dove il mercato può andare nei prossimi giorni senza andare a farci influenzare da quelli che sono le opinioni ma guardando solo il dato, quello che il trend ci sta comunicando. Intanto il mercato una cosa ce l'ha detta in questi giorni, il trend è rialzista. Poi è vero che questo swing fa ancora parte di un trend ribassista, quindi è innegabile questa cosa qui, perché per invertire un trend del genere ragazzi il primo livello da superare, come vi avevo già svelato all'inizio, è questo qui, quindi prima di superare questo livello praticamente questo trend resta totalmente intatto, perciò c'è tanto spazio ancora da fare, anche se non tantissimo perché ai prezzi attuali teoricamente basterebbe un 20% per bitcoin per breccare il livello dei 25.000 dollari e quindi invertire il trend di medio-lungo periodo ribassista e portarlo in congestione, cioè lateralizzazione, quindi stoppare il trend a ribasso. Però fino a quando non fa questa cosa ovviamente hanno ragione gli analisti a dire questo è un rimbalzo, quindi c'è molta confusione da questo punto di vista. Allora come si può fare? Non c'è altro modo se non andare a vedere quelli che sono i trend di breve, perché nell'analisi del trend di breve riusciamo sostanzialmente a fare una cosa molto interessante ragazzi, cioè anticipare un po' quello che è il mercato nel breve periodo, anticipare tra virgolette perché in realtà andiamo a vedere prima quello che fa il mercato perché invertirà prima sui trend di breve periodo e una volta che inverte il trend di breve periodo poi ragazzi può anche ritornare al trend principale che in questo caso resta ancora ribassista. C'è stato il segnale del break della media 26 periodi che è un segnale molto rilevante ma di questo ne parliamo poi in un altro video perché oggi voglio farvi vedere quelli che sono i cicli proprio di breve periodo. E inizio da Nasdaq. Perché inizio da Nasdaq? Perché Nasdaq ha una struttura di un ciclo mensile molto bella che è iniziata con il minimo del 6 di gennaio perché qui ci aveva dato una falsa aspettativa poi ha fatto un minimo perfetto per iniziare, vedete, per iniziare la famosa rimbalzo della molla per iniziare questo trend. Tra le altre cose un trend accompagnato dai dati della Fed legati alla questione del rientro del tasso di inflazione. Anche questa struttura di Nasdaq non ha avuto ancora nessuna conferma rialzista ma attenzione perché i mercati old non hanno spinto come i mercati cripto. Se qualcosa dovesse cambiare anche sui mercati old iniziare a spingere in maniera diversa, vi faccio vedere adesso il livello. Le cripto seguiranno ragazzi e fomentate da questa fase ne potremmo vedere delle belle. Lì sarà poi magari una cosa interessante andrà a vedere. Questo livello è molto rilevante perché teoricamente Nasdaq lo può anche breccare, cioè 12.300 punti circa. Lo può breccare e se riesce a fare una cosa del genere innescherà una mini fase rialzista anche delle cripto. Perché questa cosa ragazzi poi si riporta anche in versione FOMO. Avete visto come la FAD si è trasformata in FOMO nel mercato delle cripto in maniera estremamente veloce. Quindi interessante andare a constatare se effettivamente questo trend continuerà. Da un punto di vista di analisi ciclica il trend ciclico di Nasdaq ha un ciclo mensile in chiusura il 6 di febbraio. Questo ci porta all'idea che questi 15 giorni, se vi ricordate, inizialmente avevamo indicato la data di metà gennaio come una data limit. Infatti siamo arrivati alla data limit. Da qui in poi siamo nella terra di nessuno, no? Siamo nella terra in cui il mercato può un po' cambiare anche direzione. Ve l'avevo spiegata questa cosa. Infatti è molto pericolosa questa fase qui. nel momento in cui Nasdaq dovesse iniziare per esempio invece una fase di ritracciamento per la chiusura di questo ciclo mensile e la inizia subito, è un po' presto ancora però potrebbe tranquillamente fare questa cosa qui. E beh ragazzi allora il massimo di Bitcoin segnato a 21.000 e qualcosa probabilmente resta un massimo di periodo e poi si fa, si rimanda tutto a febbraio. Però non è detto che Nasdaq faccia questo perché intanto la scadenza è molto lontana, è il 6 febbraio, quindi ci vuole ancora tempo. Potrebbe tranquillamente continuare questo trend, fermo restando che questa zona è fortemente resistiva. Quindi Nasdaq nei prossimi giorni, ragazzi oggi no, perché sono chiusi i mercati, diciamo oscillano solo, insomma sono aperti solo quelli diciamo non ufficiali, ragazzi quindi non con tutti gli operatori istituzionali intendo. Da domani in poi deve prendere una strada, questa zona è resistiva, quindi se la supera la supera, se no magari si ci accosta e poi magari fa un doppio massimo, potrebbe decidere di fare un doppio massimo, sicuramente qui magari avrà difficoltà, potrebbe tranquillamente magari continuare questa zona e poi fare una close del genere. Questo significa che da qui a qui una decina di giorni, una settimanina continuerebbe a dare spinta e linfa ancora ai mercati delle cripto. Quindi Nasdaq secondo me è molto importante, nel breve periodo non c'è inversione di trend, il trend resta rialzista, non ha cambiato nulla. Quindi quello che facciamo in questo momento è analizzare il dato, ragazzi. Io sono trend follower, non mi dovete seguire, fate i vostri compiti a casa, studiate, non badate alle cianfrusaglie delle opinioni del gossip, ma al dato. Il trend è rialzista, io sono trend follower, quindi io seguo il trend e continuo a stare long sui mercati. Ma nel momento in cui questo trend poi inverte dovete poi cercare di capire che cosa può succedere, perché il trend di lungo, come vi dicevo, è una ragione degli analisti che stanno dicendo resta ancora al ribasso. Però Nasdaq per esempio ci dice che qualche altro giorno di potenziale spinta potrebbe esserci e potrebbe essere anche riversata sui mercati delle cripto. Andiamo a vedere invece la struttura ciclica mensile di Bitcoin. La struttura ciclica mensile di Bitcoin, ve l'avevo già indicata, è iniziata il 30 di dicembre con questa fase. Un mensile incredibile perché nessuno si aspettava un rialzo del genere. Il breakout da analisi tecnica da manuale, ragazzi, manuale, e ancora c'è gente che dice che i mercati non sono prevedibili. Ok, allora ragazzi scusate, love topic, i mercati non sono prevedibili. Assolutamente sì, ciò non significa che tu non possa avere un grado di probabilità superiore al 50% con lancio della moneta. Perché quello si può desumere da alcune analisi di dati oggettivi, statistico-matematici. Quindi noi non è che andiamo a prendere il futuro con la palla di vetro, mannaggia, c'è la barchetta di Harry Potter e di là la riprendo, sono 5 anni, stesse cose, è da ripetere ogni anno. Ma la probabilità aumenta a favore dell'analista che sa analizzare bene i dati. Quindi io passo dalla probabilità del 50% del testo croce al 65-70%. E questa cosa cambia radicalmente ovviamente gli investimenti che fate. Quindi non è una questione che i mercati non sono prevedibili, perché non sono prevedibili significa che voi non potete prevedere dove vanno. Ma non significa che non potete usare la statistica a vostro vantaggio per avere maggiori probabilità che quella sia la direzione giusta. Questo si può fare, ragazzi, se non la statistica che l'hanno inventata a fare. Va bene, lasciamo perdere, vabbè, queste purtroppo mancanze culturali. Andiamo avanti. Allora, questo concetto qui, questa fase qui, è un manuale di analisi tecnica. Perché primo, a questo livello di breakout, hai innescato il breakout di una resistenza orizzontale, quindi una statica. Poi è arrivato sulla resistenza dinamica. La dinamica ha meno valore per i mercati crypto, ma la brecca e innesca un ennesimo a burrano. Quindi queste due candele, cioè la candela del 12 gennaio e del 13, sono entrambe innescate da breakout di livelli di resistenza di analisi tecnica. La successiva è un prolungamento del fatto che il mercato ha breccato, appunto, due livelli molto importanti. E poi si è fermato. Quindi questo è il manuale di analisi tecnica. Primo capitolo di Murphy. Analisi tecnica ai mercati finanziari. Si studia anche nei corsi universitari. Questa zona, che è la parte alta qui, è diventata la nuova resistenza. Questa zona qui, ragazzi, vedete? È una zona molto rilevante che coincide alla perfezione con il massimo del pre-evento EPX, cioè massimo intorno ai 21.500 dollari, che dobbiamo stare ad attenzionare. Da punto di vista ciclico, però, questo è un mensile che io vi ho disegnato come lungo, perché l'ho paragonato a quello di Nasdaq, e quindi l'ho pareggiato più o meno al mensile di Nasdaq, che chiude intorno al 6 di febbraio, e qui siamo al 4 di febbraio. Quindi, dall'analisi dei dati, ragazzi, otteniamo che questo trend rialzista non ha nessun tipo di inversione al momento. È difficile che inverta radicalmente, perché dovrebbe fare proprio un pump and dump, proprio così. È molto difficile, solitamente, un trend del genere ritraccia all'interno della stessa candela l'ultima, va bene se non sfonda, ritraccia e poi prende una direzione in base alla creazione di una nuova barra di congestione. Da punto di vista ciclico, questa fase di ribassa è attesa verso fine mese, quindi anche questo trend ci dice che il mercato può continuare tranquillamente o a creare una congestione o anche a breccare questo livello. Attenzione, perché il break del 21.500 innescherà l'ennesima pump, perché è un altro segnale di analisi tecnica. Quindi, se brecca questo livello, il mercato continuerà a fare pump, anche perché chiudono, mandano in stop una serie di short che magari sono stati aperti tempo fa e quant'altro. Quindi, cosa farà in pratica? Fa il pump, se lo conferma e non è un fake pump, è un fake break, si posiziona qui e poi, teoricamente, qui in mezzo potrebbe starci 8 anni. Tanni no, quanto vuole. Va bene, perché? Perché il successivo è veramente un livello che se lo brecca cambia totalmente le analisi, dobbiamo rifare tutte le analisi, perciò è molto difficile che lo fa, secondo me, in questo periodo. Bene, detto questo, allora, cosa ci dicono i grafici di breve periodo? Trend rialzista, nessuna inversione. L'analisi ciclica ci dice che i mensili sono inclusi a fine mese di gennaio, prima decade di febbraio, intorno al 5-6 di febbraio, per quanto riguarda Nasdaq, dovrebbe essere quella la struttura del ciclo mensile, poi vediamo se fa anomalie, eccetera, perciò in questo momento chiudere delle posizioni che avete aperto magari all'inizio di gennaio potrebbe essere interessante se le chiudete in scaling out, cioè andate a iniziare a diminuire le vostre esposizioni perché magari avete paura e della volatilità ci può stare, ma alcune posizioni andrebbero lasciate, in teoria in trailing stop perché se siete trend follower questo è un must, cioè un classico di questo tipo di analisi e questo ci dicono i dati, però c'è un indizio ragazzi, c'è un indizio che è presente in questo grafico qui, è il grafico sempre FOMO FAD che vi ho fatto vedere, ve lo rimetto qui. Questo grafico ragazzi ci ha lasciato un indizio ed è un indizio molto rilevante che io vi faccio poi vedere in un prossimo video perché siamo già a 22 minuti con questo ed è molto rilevante questo indizio che ci sta lasciando questo grafico ragazzi ed è da attenzionare perché darà anche un'altra grande risposta al concetto se questo trend può essere invertito così o no. Ci sono dei livelli tecnici, ancora una volta è oggettivi e questo grafico li ha nascosti, li andiamo a trovare poi in un prossimo video quindi ritorniamo a parlare dello stesso grafico, non volevo fare due video uguali sullo stesso grafico e quindi oggi abbiamo parlato del trend di breve che ci dice solo questo long punto, non è cambiato niente quindi si continua a stare se siete trend follower e poi si aspetta quando il mercato inverte si chiude, a quel punto non si chiuderà ai massimi ma i trend follower non chiudono mai ai massimi e basta insomma ragazzi questo è quanto si fa così se invece non inverte state sul carro e ci state fino alle prossime a Big The Moon e tutto il resto va bene? Detto questo fatemi sapere invece voi ragazzi cosa ne pensate di questo rialzo lo short è giusto farlo, è un rialzo per, è una trappola per Tori secondo voi cosa ne pensate? Scrivetelo nei commenti, ci confrontiamo, è sempre una gran figata ciao a tutti!